E' cominciato il video? E' attento lo taglio No, non lo lasciamo Sono dentro Tu sei un po' fuori No, vabbè Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video con Ospit Sono i miei video preferiti ultimamente Ospit con regalo Anche preferiti rispetto a Tiger Allora, oggi siamo qui per aprire un altro banco Di Star Wars Allora, cosa speri di trovare adesso? L'uccellino Sì Secondo me c'è l'uccellino C'è, guarda che se c'è l'uccellino sono... È bello anche il robottino Così puoi fare... Sì, però io voglio trovare prima l'uccellino Voglio l'uccellino Un uccellino Un uccellino Che poi non c'è un modo per scoprire che cosa c'è dentro Perché io... Penso Allora Però prima di andare ad aprirlo Cosa devono fare? Si devono iscrivere al canale E attivare la campanella per rimanere aggiornati Ogni volta che esce un nuovo video E soprattutto lasciare un like a questo Allora Nel primo video Ho trovato lui Questo meravigliosissimo Ehm... Come si chiama questo? Non lo so Ma giusto Ma sai che non ci sono Ne cittrapione Perché sono i film nuovi Te l'ho già detto Vabbè E lo struntruppel argento Che secondo me è bellissimo Adesso Fai vedere a loro Perché se non hanno visto gli altri video Questi sono I 15 personaggi Adesso siamo a quota 3 Cioè con questo siamo a quota 3 Se non troviamo un doppione Se no ne abbiamo solo due Ma non pensi Ma non pensi Speriamo di no Mi chiede di fare degli scambi Online Allora posso aprirlo? Vai Calma Calma Tranquilla È tesa È tesa Cipolla Cipolla Sono attesa perché mi ha detto Che nel GameStop dove è andato Questo qui era l'ultimo Non ce ne sono più Un po' sporco Uccellino 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 Cosa dice il rumore? Uccellino Uccellino dice il rumore Fa cip 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 Secondo me c'è l'uccellino Perché Allora Vedete che Cioè qui Vedi che è incastrato Invece tutti e due Gli altri due che ho aperto Non era mai chiuso così Era chiuso diversamente Cioè non era chiuso Era solo appoggiata E visto che l'uccellino E' dei rari Può darsi che magari Chiudano così Quelli rari Secondo me Non è l'uccellino È un po' Sembrava uno strumentruppen Allora ho ragione Se è chiuso così Vabbè È l'uccellino Sì Ci sono le ali Hai trovato l'uccellino Neanche a farlo opposta Apriamo l'uccellino Mi è andato a piangere Hai trovato tutti quelli che volevi Sì Mi fa vedere il culino Forza Esatto Aspetta Fagliolo 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 Vedrà anche All'oro Una chiappette Chiappette Dell'uccellino Brutto Non c'è subito niente Dalla foto No È gigante Sono un po' deluso È meglio trovare lo studio Non sto un truppen Le la fai vedere Anche a loro Ma è brutto Sì Più che altro È che È veramente grosso Lascia stare che è grosso Io me lo aspettavo più piccolo Quello sì È quello lì Però la testa balla È gigante Cioè È più grosso del robottino Cioè Ma è più grosso Dello Stormtroppen Sì Perché l'ha fatto così Così grosso Non è così grosso Nella realtà Aspetta Mettiamolo vicino Eh però Ti lo mente Sì Eh vabbè Mi sa che l'uccello È andato male Non è Non è tanto bello Non ha soddisfatto Le nostre aspettative Direi che l'uccellino Non è proprio bello Però almeno è raro Però è raro Meno male Bene dai Però mi sa che è più raro Il robottino Sai Uno su No Aspetta Ma questa qui È la proporzione Cioè Della rarità Secondo te No Cioè Uno su 72 Uno su 12 Uno su 6 Uno su 24 Cioè se ne trovi Uno su 72 È più raro Uno su 6 È meno raro Allora Lo strontroop in argento Uno su 6 Il robottino Uno su 6 E questo Uno su 36 No In realtà Sono quelli più rari Uno su 72 Sì Quindi sono abbastanza comuni Sì Quelli che abbiamo trovato Sì È quello dicevo Sono più comuni Però di questo qua Uno su 36 È il più È quello che si trova più difficilmente Subito dopo questo qua È uno su 72 Poi questo uno su 36 Questo uno su 36 32 anche Sì Che ha i Loren Allora era meglio trovare quelli Che non mi piacevano Vabbè dai Io sono contenta Comunque Cioè alla fine Cioè non posso neanche lamentarmi Perché ho trovato Tutti e tre quelli Che volevo trovare Mi ha un po' deluso Perché me lo aspettavo Un po' più carino Però dai Sono comunque contenta E tu li puoi metterli insieme È un po' rovinato Ma dici che si possono anche attaccare così Sì 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 puoi attaccarli anche Sì Se lo appoggi forse Eh comunque sono belli Niente da dire Sono fatti bene Ha un bel materiale Adesso vabbè Non li abbiamo pagati pochino Perché gli abbiamo pagati 3 euro l'uno Però È più bello Dei tre È un robottino Un robottino Sì perché preferisco Quelli un po' più piccolini Però al secondo posto Ovviamente È lo strontoppino Sai cosa Al robottino Non gli manca La caratteristica Di muovere Di muovere la testa Gli altri sono più Vedete Si muovono La testa degli altri Si muove Il robottino No Cioè che per me Non è un problema Anche se non si muove la testa Fateci sapere Tra questi tre Quelli che preferite voi Secondo voi Qual è il più bello Io comunque Spero di trovarne altre Non voglio ancora Non ce ne aveva più Ma un altro Non si muove Non si muove Non si muove Vabbè Fateci sapere Qual è il vostro preferito Se anche voi Siete rimasti Un po' delusi Dall'uccello Io sì Mi suona un po' male Così Vabbè Chiudiamo il video Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per rimanere aggiornati Ogni volta che esce un nuovo video Lasciate un like a questo video E noi ci vediamo la prossima Ciao 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 Allora